Ciao a tutti, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, questo è un video di aggiornamento sulla mia vita americana, ultimamente non ho avuto il tempo, nell'ultima settimana proprio il tempo neanche di fare una live, non ce l'ho proprio fatta, vi ho lasciato il video spesa, che mi sa che l'ultima cosa che avete visto, purtroppo il tempo è volato, ho avuto tantissime cose da fare, adesso sono appena tornata a casa, tra una ventina di minuti vado a prendere i bambini, piove oggi ovviamente, quindi mi sono messa attaccata alla finestra con la poltrona, ho spostato la cucina a giocattolo e mi sono messa qui con la poltrona perché non c'è luce, la mia ring light non vuole saperne di vivere nuovamente e non so se sia il caso di, se si possono cambiare le luci, quanto costi, non ne ho idea, vedremo, e quindi mi rimane soltanto la finestra. Vi faccio questo video che avrei voluto fare in live, perché le live su questi argomenti sono questi aggiornamenti, così sono un pochino più, un po' più movimentate, c'è ovviamente il botte risposta immediato, quindi forse preferisco fare i video aggiornamenti in live, però non ho assolutamente il tempo e non so neanche settimana prossima quando avrò il tempo di nuovo. Quindi vi faccio una carrellata di macro argomenti, magari anche qualche micro argomento, vi aggiorno vi racconto un po' che cosa sta succedendo, anche perché presto sarà tempo di bilanci, perché sono ormai 11 mesi che io mi trovo negli Stati Uniti e come sapete, come vi ho già spiegato in qualche live in particolare, ma forse anche in qualche video, le cose qui stanno iniziando a cambiare molto in fretta e presto avrò un cambio, non di vita perché comunque io rimango qui un altro anno, ma ci sarà una rotazione quasi totale di tutte le persone che conosco perché loro tornano a casa e quindi mi devo prestare ad affrontare un cambiamento che forse dall'esterno non si riesce a percepire, ma per me sarà un cambiamento quasi radicale. Allora, che cosa è successo ultimamente? Abbiamo finito, qui c'è una grandissima area di cambiamento, in tutti i quartieri, il mio quartiere, i quartierini qua vicino, si percepisce, si sente proprio nell'aria il cambiamento perché ogni giorno si vedono passare e si vedono fermarsi dei grandissimi camion di traslochi e di gente che entra, americani in particolare ovviamente che impacchettano la loro vita, quindi con tutte le loro cose, poi vedi i camion che fanno, che faranno dei traslochi nazionali, poi ci sono i camion invece che vanno oltre l'oceano perché c'è chi si trasferisce in Germania, più che altro è Germania, Giappone, qualcuno va in Italia, forse anche qualcuno in Turchia, non so, comunque più o meno insomma in generale così, la maggior parte penso vadano in Germania. Comunque, quindi già percepisci e già lo vedi, vedi questo cambiamento dal porticato delle case che generalmente inizia a vedere decorato in estate quando arrivi, perché chi arriva e chi ha, parlo delle famiglie americane naturalmente, chi ha le decorazioni estive quando arrivano, smonta tutti gli scatoloni eccetera, decora, lo percepisci tantissimo ovviamente in autunno, in inverno, in primavera capisci, vedi la differenza tra chi rimane e chi sta andando via, perché il porch di chi rimane, come nel mio caso, è ancora decorato e rimarrà decorato, chi sta andando via sta iniziando addirittura, pur andando via non so, tra tre settimane, quattro settimane, sta già iniziando anche a togliere, oltre alle decorazioni, anche le lucine che ci sono sopra, per chi ce li ha ovviamente, non tutte le hanno messe, quindi percepisci, proprio si sente, anche facendo solo una passeggiata, questa area di cambiamento che è abbastanza pesante, soprattutto perché stride, se vuoi, con quello che è la primavera generalmente vista come la rinascita, gli alberi si sono riempiti di foglie da un giorno all'altro, tutti, io qui davanti alla finestra un piccolo cespuglio di rose che hanno tagliato completamente in autunno, che adesso, ieri aveva una rosa sola, adesso la rosa è sbocciata e ce ne sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei boccioli, sette boccioli, così ieri non c'erano e oggi ci sono, quindi tutta questa rinascita, questo, non dico bel tempo perché è da ieri che sta più, in realtà solo oggi ha iniziato, ieri sera, ha iniziato a pioviginare e oggi è il giorno, oggi avremmo dovuto avere un picnic, quindi chiaro che si sia messo a piovere, giustamente, e tutto questo concetto di rinascita stride tantissimo con invece la sensazione di partenza, di abbandono, se vuoi, in senso buono naturalmente, di questo distacco, ecco, non di abbandono, proprio di distacco e si sente un po' pesantina, quindi ho iniziato a sentirla da lì, poi chiaramente senti, io sento tutte le mie amiche che iniziano a, non so, c'è chi ha venduto tutte le cose che ha comprato, perché ovviamente non tutti hanno la possibilità di spedire nel loro paese, la maggior parte delle persone hanno affittato, o gli sono state affittate tutte le, non le, i mobili di casa, però chiaro, inevitabilmente in un anno qui le cose le compri, quindi hanno soltanto le valigie con cui fare il trasloco al contrario e non sembra mai in una, in undici mesi accumuli una quantità di roba esagerata, anche i più parsimoniosi, ma accumuli tantissima roba, quindi c'è tutta la corsa al comprare un'altra valigia, pagare un'altra valigia per il biglietto aereo e ci sono questi biglietti in cui, cioè, una valigia ti costa la prima, mi hanno detto, la prima costa la metà, parlavo con la mia amica della Repubblica Ceca prima, loro devono fare, mi pare, due voli, se non sbaglio, perché vola su Praga, quindi mi pare siano solo due, c'è chi deve fare voli anche di 20-24 ore, a seconda di dove deve tornare con degli scali molto lunghi, abbastanza pesanti, e il primo, il primo bagaglio ti costa la metà e quindi paga intorno ai 120 dollari, il secondo 240 dollari, quindi voi immaginate di pagare oltre biglietti, c'è da dire che alla maggior parte dei paesi il biglietto lo paga, per tutta la famiglia anche lo paga lo Stato, o gli Stati Uniti, o lo Stato di appartenenza, per noi non funziona così, però i bagagli aggiuntivi te li devi pagare tu, quindi hai il primo bagaglio che ti costa metti 120 dollari, un bagaglio 23 chili, cosa vuoi che siano, e quindi devi comprarne almeno due, il secondo ti costa 240 dollari, quindi è veramente assai, comunque sto divagando. Abbiamo finito gli incontri del mercoledì, quello dove ho fatto la cooking class italiana con la pasta fresca, il tiramisù, eccetera, l'abbiamo finito la settimana scorsa, sì, non questa, la settimana scorsa, quindi quello è stato il primo distacco, siamo andati in un caffè la mattina, in un coffee shop, in un bar, in una caffetteria, e quindi quello è stato il primo distacco, molto soft perché comunque non è che io non ho né partecipato a tutti tutti gli incontri lì, ne l'ho vissuta in maniera così forte come, scusate, ho visto uno sculba spassare, devo stare attenta all'orario, anche se credo che suonerà la sveglia, però è stato comunque un primo distacco. E poi in questa settimana, dunque la settimana scorsa abbiamo avuto l'ultima lezione al college, l'ultima lezione di inglese a cui ho partecipato naturalmente, siamo andate poi, abbiamo iniziato la lezione in classe e poi abbiamo deciso di andare nella stessa caffetteria che diciamo spostate, siamo andate in quella caffetteria per finire così il nostro incontro e prenderla un pochino più relax, però non era un vero ultimo giorno perché avevamo comunque in programma sia la giornata dei diplomi che era ieri, che no non era ieri, era martedì, cosa c'era ieri, cosa mi sto perdendo di ieri, ah no ieri era un grande giorno per me, solo per me, e che era martedì, quindi martedì abbiamo fatto la giornata della consegna del certificato, quindi del diploma che per chi se lo fosse chiesto, per chi non l'avesse visto su Instagram mi è stato consegnato, sono riuscita a prenderlo per entrambi i semestri, quindi sono molto contenta, è andato tutto molto bene, e lei è venuta con me perché chiaramente dovevamo tutte prendere questo certificato e la mia amica con cui generalmente facciamo babysitting, eccetera, anche lei era lì logicamente, quindi lei è venuta con me, ha applaudito alla mamma, era molto emozionata anche lei, ed è stato molto carino, e lì un po' percepisci l'inizio della fine, però noi avevamo un altro impegno per oggi, perché per oggi avevamo programmato un picnic in un determinato posto, molto carino, con un'area giochi, anche per chi, diverse persone come noi che sarebbero dovute portare necessariamente i figli la mattina, però purtroppo il meteo ha detto di no, in realtà il meteo dava pioggia, dà pioggia da una settimana, e dava pioggia per una decina di giorni, l'unico giorno in cui durante la mattinata si è messa a piovere è stato oggi, gli altri giorni era estate, con una grande umidità, un grande caldo, tutti con le piscine fuori, le cose, oggi no, è chiaro? Quindi ieri ho preso la situazione in mano, ho cambiato tutti i programmi, avevo quindi da un lato il gruppo whatsapp con le mie amiche, dall'altro i messaggi con la mia insegnante, cercando di far pace un po' con tutti e di quagliare la questione, così come ho fatto con i regali, così come abbiamo fatto con i fiori, è così come va fatto per tutto, e alla mia amica Laura infatti dicevo non importa dove io viva o con chi mi debba relazionare, ma alla fine devo essere sempre quella che prende in mano la situazione e prende qualche decisione, perché altrimenti sono sempre circondata da persone, ovunque io vada, che non quagliano, ed è una cosa che mi da sui nervi, perché non sono una che necessariamente abbia quella voglia, quel bisogno di, come dire, ci devo pensare io, devo scegliere tutto io, no, solo che quando capisci che non c'è più tempo, chi ha proposto di fare i regali, sparo, chi ha proposto di fare i regali all'insegnante, l'ha proposto, tutti hanno detto, ah sì, un'ottima idea, ah sì, un'ottima idea, questa gente poi è sparita nel nulla, dopo che dici, ah sì, un'ottima idea, io mi aspetto che qualcosa la facciamo, soprattutto se sai che anche le altre classi stanno organizzando qualcosa, non vorrei essere mica l'unica classe che non fa nulla, cioè mi sembrava veramente brutto, anche perché comunque hai avuto un corso di inglese per tutto l'anno, gratuito, con gente che volontariamente si è impegnata, si è fatta comunque un mazzo così, il minimo che tu possa fare è fare un pensiero, no? Quindi ne abbiamo scelto di, io e la mia amica alla fine abbiamo preso la situazione in mano, abbiamo detto, senti, facciamo così, nessuno si è più espresso, hanno buttato delle idee così e poi se ne sono tutti fregati, siccome siamo circa 15 persone, ripeto, non importa da dove vieni, cosa fai, è la classica, immaginatevi la classica chat della scuola con i regali, non cambia niente, non cambia essere qui, essere solo tra adulti, senza bambini, è la stessa cosa, stessa identica cosa della chat, del regali delle maestre, stessa cosa, alla fine ho detto, senti, con la mia amica ci hanno detto, senti, noi lo vogliamo fare, allora prendiamo la palla in mano, noi diciamo, noi abbiamo deciso che facciamo questo e questo, chi si vuole unire, c'è stata anche qualcuno che in privato mi ha detto, certo che però potremmo fare così, potremmo fare cosa, a punto ho detto, bella di mamma, no, se avessi voluto, l'avresti potuto dire prima, ora non c'è più tempo, potremmo ordinare lì, da quel sito, pensare, nulla di concreto però, sempre una cosa molto campata per aria e quindi alla fine ho dovuto essere un po' più risoluta e dire, senti, il tempo è finito, io ordino stasera, chi c'è c'è, chi non c'è la parte o qualcosa di diverso, liberissimo di farlo, altrimenti arriviamo lì che non abbiamo niente. Abbiamo preso due bellissimi mazzi di fiori per il giorno del diploma, oggi siamo andati a pranzo fuori con, appunto, con le nostre insegnanti e le abbiamo fatto dei regali, dato che abbiamo partecipato quasi tutte alle movie nights a casa dell'insegnante più grande, più anziana. Diciamo che, come ci piaceva che uno dei regali almeno avesse questo tema del movie night, che si chiama Cheek Flicks, quindi sono dei Cheek Flicks e un modo di dire, come dire, i film che guardi con, tra ragazze o un film un po' da, non è che mi piace un po' stessista dirlo, però insomma per farti capire è un film, una cosa un po' che si fa tra ragazze, eccetera, come genere, poi puoi guardare, comunque un modo di dire. E quindi abbiamo comprato ad entrambe una maglietta con scritto, oh non mi ricordo, mi pare che ci fosse scritto Let's Eat Chocolate and See Cheek Flicks, però mi sono chiesta, ma non era meglio dire, scrivere Watch, non l'abbiamo scritto noi, erano già pronte, le ordinate su Amazon e sono piaciute molto, quindi la stessa maglietta per entrambe e poi abbiamo scelto per l'insegnante più anziana, una volta ci disse che il suo papà la chiamava Ciki, tipo pulcina, no? Perché un anno a Pasqua regalò a lei un pulcino, ai suoi fratelli e altri due animali che non mi ricordo, un coniglio, non mi ricordo cosa, e quindi lei la chiamava Ciki. Questa cosa c'era rimasta impressa? Su Amazon ho trovato una tazza troppo bellina, semplice bianca, ma dal lato opposto al manico c'erano gli occhietti e il musetto del pulcino e quindi ho detto, no, ma questo è troppo carino anche perché chic, flicks e quindi era anche a tema, in più con il pensiero, ecco, di questa cosa del suo papà, del suo nomignolo, insomma, abbiamo pensato fosse una cosa molto tenera. Mentre all'altra mia insegnante, più giovane, una volta parlò, scusate, ho guardato sempre l'orario, parlò una volta di, io non c'ero quel giorno a lezione, però, di quanto spesso dopo che preda i figli da scuola, eccetera, abbia bisogno di rilassarsi, di un bicchiere di vino, eccetera, e quindi abbiamo trovato un kit, diciamo, da insegnanti dove c'è la tazza, quindi per il caffè, dove c'è scritto before school, quindi prima della scuola, e il bicchiere di vetro trasparente, tipo il calice di vino, però quelli senza stelo, con scritto after school, e quindi dopo la scuola, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, poi ovviamente c'era un biglietto con, il martedì per i fiori, abbiamo solo scritto i nomi, mentre a sto giro abbiamo scelto un biglietto più grande dove ciascuna ha scritto un pensiero, una cosa un po' più personale, ed è stato molto bello, erano molto contente, è stato bello, qui con questo pranzo inizio un pochino a sentire, ma io mi rifiuto, mi rifiuto ancora, ancora presto, perché comunque io queste persone continuerò a vederle, a parte che io comunque devo stare qua, quindi non do l'addio alla mia insegnante, non do l'addio a un paio di mie compagnie che comunque rimangono qua e quindi continuerò a vederle, le altre amiche comunque le vedrò ancora, perché non è che ci stiamo lasciando per sempre, quindi rimando il concetto di addio barra rivederci ad altri momenti, non a questo, per cui diploma fatto, saluti, regali e bla bla bla. Un'altra cosa importante che è successa ieri è stato il mio esame della patente, perché un mese fa quando siamo andati io e mio marito a fare l'iscrizione, cioè eravamo convinti di dover andare a iscriverci come in Italia, invece tu vai lì, dai il tuo, non so se sentiate questo rumore, ma è l'aria condizionata che si è attivata, nel caso, scusate, invece lì tu vai con i tuoi documenti e vai semplicemente a sederti, dare l'esame di teoria e se la devi fare ti prendono e ti portano a fare la guida. Non lo sapevamo, quindi ci hanno semplicemente preso i documenti, eccetera, per iniziare a metterci nel sistema e ci hanno dato l'appuntamento poi per ieri, che era 10 maggio, non abbiamo studiato granché. Nell'ultima settimana abbiamo un po', mio marito ha tante di quelle cose da studiare, che certamente, come dire, il testo di Guida e della patente non era esattamente in cima ai suoi pensieri, però al contrario mio, lui è abituato a, come dire, all'approccio allo studio, ormai è diventato il suo pane quotidiano, quindi sicuramente è molto più veloce di me. Io ho iniziato col manuale, mi sono rotta le scatole dopo breve e ho iniziato a fare i quiz, ci sono le app con i quiz, quindi ho fatto tutti quelli possibili, immaginabili, tutti quelli disponibili, eccetera, eccetera. Nessuno mi ha detto però, una mia amica ieri mi ha detto, guarda, scusami, io non volevo dirtelo perché ho paura di spaventarti. Nessuno ci ha detto però che, noi eravamo convinti che quelle domande trovate nelle varie app, eccetera, sarebbero state, non dico le uniche disponibili nel test effettivo, però, no? Magari su 25 domande, 25 domande 20 su 25 devono essere giuste, quindi hai 5 errori a disposizione, che non è male, però tu devi sempre calcolare che, uno abbiamo studiato poco, però guidiamo anche da 22 anni, da 20 anni, quindi sì, sei in un paese straniero, però c'è un'altra lingua, però il cervello non è più quello di 18 anni, però c'è comunque una tensione, noi poi tra l'altro ogni tanto entravano persone più o meno della nostra età, ma che accompagnavano il loro figlio adolescente a fare la patente, il loro figlio sedicenne, e quindi insomma un po' così, e comunque c'è la pressione delle domande a trabocchetto, le domande erano molto diverse da quelle a cui ci eravamo abituati nelle scorse settimane, non so perché non facciano delle app con delle domande un pochino più fedeli, erano molto più complicate, molto più insidiose, quindi tu sei lì già con un po' di agitazione, per carità non è niente di grave, io ieri ho deciso di, ho sfidato l'Alessandra, pur sentendomi di 18 anni nuovamente a fare la patente, ma avendo 40 anni e non più 18, ho deciso di sfidare la diciottenne che in me, che era più che altro in me, e di andare lo stesso, perché la diciottenne Alessandra avrebbe rimandato, sicuramente sarebbe fatta spostare l'esame almeno di una settimana, invece ho detto senti, ma sai che c'è, a casa con i quiz sono molto brava, se non lo passo chi se ne frega, qui non devi aspettare un mese, un giorno, ma una settimana dopo lo puoi ridare, e lo puoi ridare per quattro volte, se non lo passi per quattro volte devi aspettare sei mesi, però, insomma, oddio, non sono proprio una deficiente, quindi ho detto, vabbè, male che vadano, lo passo una volta, lo passi la volta dopo, ciccia, non succede niente, ah, ho solo un minuto, due minuti, e comunque è andato tutto bene, la differenza è che io ho dovuto fare sia la teoria che la pratica, è suonata la sveglia e si è interrotto, ho fatto tre errori, ho fatto tre errori, però, devo, come si dice, devo contestualizzare, perché ero così assorta, nella, così concentrata sullo schermo, e andavo in automatico, perché quando usi l'app, il pulsante in basso a destra è quello che ti fa andare alla prossima domanda, è il tasto tipo next, invece sullo schermo era il tasto skip, cioè tu puoi schippare le domande, leggerteli tutte, per dire, puoi tornare indietro, io ho risposto, ero convinta di aver risposto a tutte le domande, invece le ho schippate tutte 25, quando ho schiacciato l'ultima, la venticinquesima domanda, ho sentito la tensione, l'adrenalina a fare, giù, perché ho detto, ho finito, però anziché comparirmi, hai passato, non hai passato, mi è ricomparsa la prima domanda, quindi ho dovuto rifare tutto da capo, con le stesse domande, però con il cuore che mi batteva, c'è tutta la calma che avevo prima se n'è andata, perché ero agitata, ne ho detto, cavolo, ma quella concentrazione non ce l'ho più, adesso sbaglio, avevo paura di andare troppo veloce, quello che non sapevo è che le persone che lavorano lì possono controllare quello che tu stai facendo al computer, quindi ho saputo poi dopo che erano spaventatissime, perché mi avevano visto schippare tutte le 25 domande senza aver risposto manca una, io poi ho ricominciato, la mia quinta risposta è venuta una e mi ha detto, senti ma tutto a posto, c'è qualche problema, l'ho vista molto preoccupata, io ridendo ho detto, no guarda, perdonami, ma sono stata scema io perché ero convinta di aver risposto, invece il tasto submit, quindi come dire, conferma la domanda era a sinistra e io andavo dritta, proprio in automatico, quindi ho dovuto rifare tutto da capo, ho fatto tre errori, non fa niente, il mio orgoglio devo dire un po' l'ha un po' sentita la botta di aver fatto questi tre errori, ma mio marito ne ha fatti cinque e quindi, quindi ho vinto io, il problema è che lui, essendo appartenente alle forze dell'ordine, essendo un militare, non doveva fare la pratica, mentre io, povera moglie, sì, questa cosa, guardate, tra l'altro li lavorano tutte donne e anche loro hanno detto che è inaccettabile e tra l'altro è una regola che c'è da massimo una decina d'anni, prima neppure era richiesto l'esame, ma semplicemente ti convertivano la tua patente internazionale nella patente locale. E vabbè, e vabbè, comunque, per chi si stesse chiedendo come mai fai questa patente dopo un anno è perché io adesso a maggio avevo la scadenza della patente internazionale, perché ho fatto la patente internazionale e questa è una domanda che mi è stata fatta, quindi rispondo prima di chiudere, la patente internazionale non è una patente speciale, ma semplicemente in Italia paghi, in altri paesi europei è gratis, se o costa 5 euro in Italia la paghi dei 100 ai 150, quindi manco poco, dura soltanto un anno, causa convenzioni, ci sono convenzioni mondiali a seconda del paese in cui vai, può durarti uno o tre anni, a me ovviamente è capitato quello da uno, semplicemente paghi e ti danno un pezzo di carta, questa è la tua patente internazionale, stop, questo è quanto. E quindi noi abbiamo potuto guidare qui per 11 mesi, perché l'ho fatta a maggio in Italia, ma siamo arrivati qua a giugno senza, per dire, adesso abbiamo avuto un controllo, quello ufficiale, però, voglio dire, nessuno ci ha detto, devi saperlo fare prima, devi studiare prima, no, così, quindi so, beh, vabbè, comunque, ormai è fatta e arriverà tra circa due settimane e nel frattempo, ah, peraltro, per chi mi ha chiesto anche dei costi, ora, oddio scappo, vado in macchina, faccio prima, ma perché sta piovendo, costi, ho pagato 29 dollari, non c'è nessuna visita oculistica, ti fanno tutto l'oro, la foto te la fanno lì, quindi tu vai lì con i tuoi, non so, il tuo documento, nel nostro caso la proof of residency, quindi la tua prova di risiedere effettivamente qui, ti fanno leggere le letterine, quello per cui tu paghi l'oculista che ti fa semplicemente leggere delle lettere, ti firma un certificato, te lo fanno lì, ti dicono leggimi quella riga lì di letterine, tu gliela leggi, dichiari di non aver problemi con la legge, di non essere qui legalmente, eccetera, eccetera, e ti fanno la foto e la patente ti arriva a casa dopo due settimane, quindi è una cosa molto semplice, molto, molto rapida, fai tutto lo stesso giorno, teoria e pratica, e questo è. Quindi questi sono i miei aggiornamenti, diciamo, dell'ultimo periodo, le cose un pochino più sostanziose, di altre parleremo poi nelle prossime settimane, vi mando un bacio, scappo a prendere i nani e ci vediamo alla prossima, ciao!